Vi ricordate il Pol Popol? Durante i mondiali in Sudafrica divenne una star, indovinando tutti i risultati della nazionale tedesca e la vittoria della Spagna. Gli europei di calcio sono entrati nel vivo della competizione e da ogni angolo del pianeta sono spuntati animali indovini. Sulla nostra community ci avete già segnalato una decina di casi. A Singapore hanno il pesce sensitivo, in Germania la mucca Yvonne e a Bangkok la foca Tic. Tutti pronti a indovinare i risultati delle partite. I più preparati però sono i paesi organizzatori che hanno schierato vere e proprie squadre di veggenti. In Ucraina ci sono il furetto Fred, presentato in conferenza stampa, e il maiale Funtik, che a detta dei proprietari è un oracolo suino e conosce tutti i misteri del calcio. La Polonia risponde con l'enorme elefantessa città, chiamata a scegliere tra tre meloni, 1, X, 2. Non sono da meno i campioni del mondo della Spagna, che affidano le loro previsioni al polpo Manolo e addirittura a Maya, una nutria. Questi riti possono sembrare buffi e divertenti, ma siamo sicuri che gli animali gradiscano le luci della ribalta? Bow Boys, cosa ne pensate? Fenomeni di costume o stress gratuito per questi animali? Dite la vostra su www.bowboys.tv